E' un momento triste per la città, per la giostra, ma anche il momento di ricordare una grande figura, quella di San Prosganab. Eh sì, è un giorno tristissimo oggi, sono quei giorni che non vorresti mai vivere, ma purtroppo la vita è anche questa e siamo qua. Sì, un grande personaggio, un grandissimo amico, io sono diventato capitano con il suo mandato, quindi è normale che per me ha un valore particolare, Sandro, sono stato il suo testimone di nozze, quindi è normale che per me è qualcosa che va un po' oltre il quartiere. Ci ha lasciato, quello che però ci rende orgogliosi è di averlo reso comunque orgoglioso di noi appunto e che mi auguro che da lassù ci guardi come farà sicuramente, che il prossimo anno ci dia la spinta giusta per potergli dedicare la lancia. C'è un insegnamento che ti porterai sempre dietro, che ti ha trasmesso? Ma è tanti, troppi, non ne sto nemmeno a elencare uno perché Sandro è stata una guida per noi nel momento in cui il quartiere stava andando veramente giù, l'ha ripreso per la mano, l'ha riportato su, una persona sempre sorridente, sorrideva anche proprio nei guai e forse questo era proprio il suo spirito e quello che ha riaccumulato un po' il quartiere. Dopo purtroppo questa nuova tegola, infatti abbiamo sentito molto la sua mancanza in questi due anni e mezzo e oggi purtroppo siamo qui a piangergli e a dargli l'ultimo saluto. Enrico, questa che nasce dal quartiere è proprio grazie al suo arrivo quando è diventato aggettono? Sì, indubbiamente a parte il fatto che è una grandissima persona, io non voglio essere ripetitivo ma quello che ha detto il nostro capitano sono le parole giuste in questa circostanza. Io devo molto a lui in quanto a parte l'amicizia, ripeto che ritengo una cosa bellissima, mi ha proprio coinvolto in questo quartiere al 100%, io prima ero come semplice tesserato, poi con lui piano piano ho scalato anche dei gradini più alti che sono molto orgoglioso e devo tutto a lui su questo discorso sul quartiere.